Sapevi che Ronaldo non ha nemmeno scelto la maglia numero 7? In realtà l'ha rubata. Quando Ronaldo andò al Manchester United, pensava che il numero 7 fosse speciale, perché tutte le leggende indossarono quella maglia. Nella sua testa era sicuro che sarebbe diventato anche lui una leggenda. Quando Ronaldo si trasferì in Arabia, però, un altro giocatore aveva già quel numero. Il suo nome è Jaloliddin ed era famoso per le sue skills e dribbling incredibili non aveva nessuna intenzione di cedere il suo amato numero nemmeno a Cristiano Ronaldo in persona. Inizialmente l'Al Nasser non aveva svelato il numero di Cristiano, infatti avevano postato una foto in cui si vedeva solo il fronte della maglietta. Per i primi giorni, infatti, non erano riusciti a convincere Jaloliddin a cedere il suo numero. Fin quando l'Al Nasser non lo minacciò di far terminare il suo contratto, alla fine lui si prese la numero 77 e casualmente venne licenziato a fine stagione.